Attorno alle 15 c'è stato un incidente di una certa importanza all'altezza dell'argine a cavana della Po. Il traffico era bloccato e fortemente rallentato, si vedono le ambulanze ferme con i lampeggianti accesi e i vigili del fuoco con due mezzi operativi. L'auto in direzione di Adria si è capovolta sull'argine destro, fortunatamente non è finita nelle fredde acque del Po, eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito.